Ciao a tutti ragazzi sono Kendall e benvenuti in questo nuovissimo e fantastico video della vita in città Quest'oggi ovviamente faremo un'altra missione perché come vedete sono grado avventuriero livello 88 E sapete bene che non appena arriverò al 90 sbloccheremo una nuova magia Tra l'altro ricordatevi che a Teldrasil c'è un portale al quale si può accedere soltanto dal livello 100 in poi Quindi siamo tutti quanti cercando il più possibile di salire di livello proprio per entrare là dentro E quindi dobbiamo fare missioni a go go Chissà se mi ci fa entrare anche se non sono al 100 Ti immagini magari sono tipo abbastanza vicino al livello ci provo? Entriamo? Eh non va ecco te pareva perfetto A questo punto direi di andare da Stefffere perché devo farmi craftare una nuova spada e una nuova armatura Per il mio piccolo amico goblin che non vuole nascere perché non vuole nascere Ehi goblin maledizione Allora aspettate eccolo qua No Quello non doveva succedere Goblin facciamo che torni subito qua dentro va Scusami Andiamo da Steffere che è meglio Ah vabbè è rinato Ok allora nessun problema Vabbè io direi di aspettarli qua seduto di fronte a casa loro Ricordatevi ovviamente che il mio goblin è già estremamente forte Quindi aggiungendogli una spada che poi ovviamente andrò anche a incantare con Sharpness 4 o 5 Diventerà un guerriero nato Signor Kendall dovrei parlarle anch'io Ok ok probabilmente vuole qualche incantesimo Ma per fortuna sono pieno di livelli e ho anche tantissime bottiglie d'esperienza Che se vi ricordate ho fatto nei dungeon APS ho dato un nome al goblin Si chiama Goblino Proprio scritto così Goblino Non lo so mi faceva ridere Che lunga attesa ragazzi Neanche dal dentista Eccoli eccoli stanno arrivando Sembro tipo il bambino che viene preso da scuola dai genitori Ciao con lo zainetto seduto Buongiorno Come state? Tutto bene Tutto bene Allora oggi devo chiedervi un piccolo lavoro molto semplice Si torna indietro nel tempo Mi dovete fare una spada in diamante e un'armatura in diamante Ok Cioè un corpetto in diamante E tornata l'episodio 10 della serie Esatto No perché ho sbloccato un nuovo goblin e lo posso equipaggiare Cioè praticamente ho un mostro aiutante che quando lo evoco attacca tutti come un pazzo E gli posso dare una spada potente e un'armatura potente così resiste di più Ok Vabbè Quindi se mi vuoi fare una bella spada in diamante e un'armatura So soldi eh Le sta facendo non ti preoccupare So soldi Quanto costerà? Il nostro obiettivo è arrivare alla moneta di diamante Quindi dobbiamo guadagnare un sacco Ma non ci arriverete mai tanto secondo me Penso che vi serviste solo la chestplate Stato No solo chestplate Eh tappato tutta Ho creatato tutta l'armatura Eh io non te la pago Allora tieni No tanto le poi le do ai miei venturieri Sono 8 pezzi della chestplate Più 2 sono 10 10 e 30 ad argento Mazza che caro Che caro Eppure dopo 100 episodi ancora mi puoi i soldi Devo arrivare alla moneta di diamante Ma io non avevo qualche sconticino di cui soffrire No no sono finiti 100 anni fa Vedi che sei proprio tornato all'ep10 te Esatto Piuttosto Sì dimmi Lei è interessata degli orecchini Eh mi starebbero bene in effetti Potrebbero risoltare il mio viso Non si vedono esteticamente ma Ecco perfetto Ti ricordo che dobbiamo comunque ammazzarlo Prima di creare dei demoni Tu stai cercando il più possibile Di arrivare a fare quella moneta di diamante E ce la faremo Ok quanto costano gli orecchini Allora Perché mi interessa Il 7 costano 3 d'ora e mezzo Ma considera che Aspetta Quando tu attacchi i demoni Se ce li hai equipaggiati entrambi Fai più 10 di danno E li metti fuoco Ok Però ricordati che io Ho anche questo Io faccio già tipo 50 di danno Spadata E aggiungi altri 10 Allora E in più li dai fuoco Io li comprerei volentieri L'unico problema è che ho 5 monete d'oro Non sono più molto nico Se vuoi ne puoi comprare uno E poi te ne compri un altro successivamente Uno quanto costa? Uno E la metà di 3 e mezzo Ah ok Che quindi è tipo 1 e 7 Ma scusa Io non volevo comprare la collana Piuttosto che gli orecchini Non mi ricordo La collana ti permette di subire meno danno per tot secondi Gli orecchini ti fanno 40 a quei danno Però secondo me è meglio meno danno Perché io ho una difesa scarsa Non ho nulla per fare la collana E allora non compro Fatti dei soldi E torna a comprare la prossima volta Ah tanto devo andare in missione Quindi per forza Perfetto Ok Grazie Ciao Bene è arrivato il momento di parlare con Xiao Dimmi tutto Xiao Bentornato Grazie Io devo dirle due cose Allora numero uno Non so se tu ti ricordi Quando mi avete interessato Tu mi hai promesso una certa armatura Ce l'hai già Vabbè comunque se vuoi ok Tieni guarda È questa Cioè io era giusto per farti iniziare per avere qualcosina Ma non è niente di che Secondo me la tua armatura di ora è meglio Ah ok Io pensavo tipo un'armatura super mega incredibile No no questa è l'armatura che mi ha dato Steph quando sono morto io Mi ha detto tieni questa così per un po' per cominciare a fare qualcosa Allora la metto solo perché sono fan Ok La userò solo per questo Però credo che l'altra sia migliore Con lei in diamante Anch'io Allora Un'altra domanda Questa è un po' più seria Allora Attualmente Steph e Ferri Mi hanno ricreato Lascia in diamante Perché chiaramente se no non posso lavorare Io ora come ora Ho 54 monete d'argento Ti chiedo Vanno bellissimo Per incantartela Tutte 50 Esatto No Chiedo siamo un po' troppo Vabbè a prescindere comunque Il debito pubblico Quindi comunque Mi devo ridare sti soldi Però ecco Ti chiedo Ho anche 46 livelli Se magari ti possono servire No no A livelli sono messo più che bene Allora guarda Ok Facciamo così Vieni 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 Che cosa ti serve a te? Allora Almeno comunque mi servono Efficiency Unbreaking Mi serve comunque Un qualcosa per renderla veloce Forte E indistruttibile Quindi Allora Qua mi esce subito un unbreaking 3 Io potrei rischiare Perché Potrebbe uscire anche efficiency Assieme unbreaking Sì Visto che è il livello 3 Ci proviamo? Sì Vai Mi è uscita knockback Allora Siccome io sono buono Dov'è il grandson? Pensavo che Marci L'avesse messo qua Vabbè Aspetta Purtroppo il grindstone Io ce l'ho Sul punto di casa mia Bene Tolgo gli incantesimi E te la rifaccio Non ti faccio pagare Questa cosa extra Di solito Quanto te la facevo pagare Lascia da incantare? Guarda Non me lo ricordo Eppure che me lo ricordavo Oppure comunque Ti avrei detto Un prezzo più basso Per non pagare di più Quindi Allora è uscito E' uscita efficienza 4 E Bane of Anthropods 4 Ok Quindi posso ammazzare i rai Prendi O lasci Prendo Prendi? Certo Dai Fai tre monete d'argento So che sei povero Ok Vanno più che bene Perfetto Ok Ottimo Ti serve altro? No 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 Grazie mille Ale Grazie Mi raccomando poi Il tuo debito dovrei saldarlo Sì 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 Prima o poi sicuramente lo farò Prima o poi sì Ciao 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 Se vedete che ho meno livelli È perché ho appena incantato qualcosa a Carly Ma tanto ragazzi Cioè dai Veramente Ma che problemi ci sono? Mi basta utilizzare tutte queste bottigliette E torno al massimo del massimo dei livelli Allora E' arrivato il momento di incantare I pezzi d'armatura E la spada Ovviamente Del piccolo goblino Quindi vediamo di far uscire Un bel sharpness 4 Potrebbe uscire No Fire aspect però era buono Effettivamente Cavolo avrei potuto mettere fire aspect Dai Sharpness Così poi fa un male assurdo Oh 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 mio Dio Quattro incantesimi finali Bene 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 Ma che fortuna Ma non c'ho mai tutta questa fortuna Che è successo? Allora Vediamo se troviamo qua invece Un bel protection 4 Così prenderà molto meno d'anno Ricordatevi che alcuni mostri Ovviamente Hanno effetto riflesso Quindi quando il mio goblin Fa un botto di male A volte gli torna indietro Ok protection 4 Va più che bene Quindi queste sono La Questa è la spada E la corazza del goblino Adesso rievochiamolo Puff Ciao piccoletto Prenditi la tua nuova spada E la tua nuova corazza Ah la spada si vede anche No vabbè ma che figata La spada minuscola Bellissimo Ok però adesso Via Molto molto bene Come vi dicevo i livelli Non saranno un problema Anche perché adesso andremo a affrontare una nuova missione Un ritorno draconico Il drago dell'end vuole tornare Distruggi gli spawner Uccidi tutti i mostri E respawna il drago E sconfiggilo Bene Sono pronto Sono anche molto curioso Di sapere quanto danno farò Al drago dell'end Perché miei cari ragazzi Ricordatevi che il mio attacco È super potenziato Quindi potrei tranquillamente Ucciderlo con due o tre colpi Sono molto 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 curioso Allora innanzitutto Andiamo immediatamente nel negozio Anche se credo di avere abbastanza cibo Quindi non penso di dover comprare cibo da Mark Poi ricordatevi che c'ho anche goblino Quindi metà missione me la farà lui Praticamente Ma se non sbaglio Carly mi ha detto che mi ha comprato un po' di cose Quindi andiamo a riscuotere cassa E dopo questa missione Se dovessi riuscire a completarla Arriverò al livello 90 avventuriero Sbloccando quindi una nuova magia Mi sto impegnando tantissimo Per diventare sempre più forte Per sconfiggere il re dei demoni Ma in realtà tutti ci stiamo impegnando Ho visto che Carly si è fatta l'armatura in nederite Steph e Ferre stanno cercando di diventare schifosamente ricchi C'è chi compra le trappole a destra e a sinistra E soprattutto tutti stiamo cercando di arrivare al livello 100 avventuriero Allora che cosa mi hanno comprato? Mi ha detto che mi ha comprato No? Ah ecco mi ha comprato quella di fuoco E basta credo A meno che Steph e Ferre abbiano comprato Oh sì sì hanno comprato delle pozioni E credo che tutte queste altre in realtà non gli servano più Forse ancora un po' sì Ma non di certo come prima Ok Beh comunque ridendo e scherzando ragazzi Sei monete d'oro? Adesso è arrivato il momento di andare in missione Quindi essendo che si tratta di una missione contro l'ender dragon Probabilmente devo andare nel land E se vi ricordate bene land Oh mio dio Non mi ero mai accorto che il pollo fosse così grande Buongiorno mi dica Signor Kendall Quanto ha speso lei nel mio super negozio? Ma lascia stare Io ti sto rendendo l'uomo più ricco del mondo Sei miliardario Beh in effetti ho solamente 14 di oro in questo momento nella mia super urbana Come fai ad avere 14 di oro io ne ho 6 Ho anche speso 15 per xiao ricordiamo Senti voglio entrare nei tuoi giri Nei tuoi affari Voglio anch'io tutti questi soldi Vuoi entrare nel business Nel business esatto Comunque direi che se vuoi entrare nel business Ti posso fare incantare questo piccone Che ne pensa lei? Che cosa ti serve nel piccone? Perché è un piccone poi? Perché questo qui è l'unico oggetto che mi serve per rompere le uova degli animali magici Quindi è molto utile Quindi vuoi efficienza 4? Esatto Comunque mi serve Diciamo che le uova sono molto dure E quindi è molto difficile romperle ogni volta E devo star lì tantissimo con questo piccone Non ti preoccupare ci penso io Ma lei per caso ha visto anche un draghetto da qualche parte in giro per casa sua signor Kendall? Un draghetto? Eh sì io ho nascosto un draghetto in casa sua signor Kendall Ma scusa per quanto tempo è rimasto nascosto in casa mia? Sì sarà morto Più o meno lì da un paio di settimane signor Kendall Ma come è che è un paio di settimane? Non mi dici nulla Ma dove? Dove l'hai nascosto? Eh te l'ho detto Diciamo che dovrai trovarlo tu da solo Il giorno che lo troverai verrà dirmelo E da lì ti insegnerò Come utilizzare un drago all'interno È una caccia al tesoro praticamente Esatto La caccia al tesoro del draghettino Kendall Mi piace mi piace Allora aspetta Ti deve incantare il piccone quindi Esatto il piccone Vai 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 Spostati un attimo per favore Me ne vado subito Sì vada vada Sono pieno di queste bottigliette Tanto vale usarle Oh oh Silenzio Efficienza 4 Uh Cosa? Telecinesi Efficienza 4 Smelter Oh Interessante Potrebbe stati Controlla Sì 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 Mi piace mi piace Un unbreaking da qualche parte riesci a metterlo per caso? Ti prendo Ah sì sicuramente ce l'ho un libro Fammi vedere se ce l'ho qua Aspetta 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 fammi vedere Dai che è una confidente Un bel unbreaking 3 Ti pago veramente Oh trovato trovato Ce l'ho ce l'ho Ottimo attimo Andiamo Andiamo Tieni qua Ottimo Ok allora ti faccio pagare quanto ho fatto pagare a carli Va bene 15 monete d'argento Ah va bene dai Allora in questo momento Dato che comunque Sono sempre stato con la mano un po' tirata Nei vecchi pagamenti 20 da argento Ma chi l'avrebbe venuto 20? Sì Sicuro? Anzi guarda 22 guarda 23 guarda Tanto te ormai sei ricco Guarda sei proprio zio paperone Va bene grazie mille Poi cercherò il traghetto allora in casa Esatto Diciamo che è in casa Quindi su questo puoi star molto 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 tranquillo Va bene Speriamo non sia morto No non può morire Perché anche se non mangia Diciamo che Nel momento in cui tu gli dai da mangiare Attivo i suoi effetti Però se non mangia sta molto 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 tranquillo E il mangiare presumo che lo devo comprare da te Eh Kendall Te faremo Te faremo Ma qua abbiamo creato un business Un business Incredibile Va bene Io vado in missione Ciao Mark Ciao Kendall Ok adesso è arrivato il momento di andare nel land Tra l'altro è una missione di grado A Quindi quanto vuoi che sia difficile Ultimamente me le sto mangiando a colazione Andiamo a fare questi livelli avventuriero Allora se non mi ricordo male Il portale dovrebbe essere qua da qualche parte Giusto? Come si c'è cede però? Ah da qua direttamente Ok Ma io c'ho tutto vero? C'ho il piccone C'ho la spada C'ho lo scudo Ma è sì Ma sì Ma sono messo più che bene 27 mele d'oro Ma figurati Entriamo Spatapuff Ecco c'è solo una cosa che non ho Mi servirebbero dei blocchi da costruzione evidentemente Ehm Perché ci sono due wither Perché c'è Che cos'è quella struttura? Ok Ho capito Mettiamoci a scavare dei blocchi Credo proprio che la missione sia lì Ok Credo di averne presi abbastanza E effettivamente comunque è molto molto lontana Se avesse avuto l'elitra Probabilmente sarebbe stato più facile arrivarci Cerchiamo di non guardare nessun enderman Perché se mi buttano giù adesso mi arrabbio E dirigiamoci verso Quell'isolotto gigante Ma che cavolo è? Ma è una torre Ah Oh certo che è un po' Ma come bedrock? Ma porca miseria Ma perché c'è la bedrock? Un po' più vicina potevano farla Ma perché è pieno di wither? Non mi dire che devo affrontare 5 wither di fila No non è possibile Ok se non altro Dovremmo avercela fatta Siamo in cima Bene Quindi questi non mi servono più Eh sì è una torre È una torre tutta ed ossidiana E bedrock Credo che questa sia l'entrata Sì vedo già degli spawner Che rompiamo immediatamente No maledetti slime Allora c'è soltanto un problema con questi slime Hanno tutti quanti reflective E non solo Avvelenano pure Cavolo Mi mangio la meladoropi Ok entriamo con la meladoropi Prima che finisca l'effetto rompiamo tutti gli spawner E dopodiché li ammazziamo Dai Dai Ok Mangiamo i cibi così rigenero tutti quanti i cuori E si va Oh cavolo devo fare attenzione però con aura della spada Guardate quanto mi tolgono No 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 Mangia 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 Ho un'idea Posso utilizzare il muffin E non li ho bruciati Perché non li ho bruciati? Ok è molto più difficile di quel che pensassi Perché il goblin non mi aiuta? Ok uno l'abbiamo battuto Ma io ne sento altri Dove pensi di andare tu eh? Adesso che non ho aura della spada ti massacro Dai che sei quasi morto Dai dai Morto È stato troppo difficile Ma perché tu non rispondi ai miei comandi? No non mi dire che non funziona nel land Non si muove Vai attacca piccolino Per qualche strano motivo non funziona nel land Porca miseria Ok dovrò fare questa missione da solo Ma qua ne spawn Ma mi sa che c'è uno spawner qua sotto E infatti l'ho appena rotto Ecco perché ne spawnavano altri Ok andiamo oltre Scaliamo tutta questa torre Ho già avuto abbastanza difficoltà con quelli Ma poi perché mi avvelenano? Ma chi è che mi avvelena? Non mi importa non importa Andiamo Ok nuova stanza E te pareva No Ho visto male o anche loro hanno reflective? Allora subito via gli spawner Eh sì infatti hanno reflective No 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 Non usare aura della spada Non usare aura della spada Fin quando li ammazzo a uno a uno Va benissimo Anzi così quasi Conviene usare lo scudo Così se per sbaglio Dovessi fargli troppo danno Non rischio di morire Ok via gli spawner Che schifo Sembra un nido di ragni Un altro qua Via Rompi rompi Dai ok Oh c'è un altro E quanti siete Via Mangia i pancake Sboom E tu dovresti essere l'ultimo Ah no c'è un altro Muori Muori Ok Anche questo piano L'abbiamo completato Tutti questi libri inutili Non mi servono Via Proseguiamo oltre Comunque è molto più difficile Rispetto alla missione scorsa Che abbiamo fatto nel galeone Mi fanno molto più male qua Perché non ti muovi tu? È un problema della bedrock? O dell'end? Forse Forse è l'end il problema Non risponde ai miei comandi Forse questa torre Blocca tipo la magia? Ma perché è pieno di portali Lassù? Non vedo l'ora di affrontare I wither Oh mio dio Oh Però loro non sono incantati Quindi posso usare aura della spada Aia se fanno male Oh mamma mia Ok 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 Calma 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 Me le doro Forse li ho sottovalutati un po' Me li ricordavo meno potenti Oh mamma mamma Aspetta mi mangio lo speedino Che mi dà resistenza Dai Sì No 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 Ci sto schiattando Ci sto schiattando Eh goblino Me la potresti dare una mano Visto che ti ho anche fatto Un'armatura nuova Ingrato Ok Dai ne mancano pochi Meglio però rigenerare Meglio rigenerare Andiamo L'ultimo Eh sì tu muori E tu muori E tu muori adesso Quanta vita c'ha Aiuto Dai Schiatta Oh Benissimo Eh no ancora Annaggia te Ok Metto oro della spada E ti elimino dal gioco Ok fantastico Non ce ne sono altri Andiamo oltre Oh 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 Qualcosa mi dice Esatto Che i wither sono proprio qui Aiuto Devo pensare a una strategia Mi metto la rigenerazione oscura Subito pronta Così in caso rigenero la vita 3 2 1 E No no aspetta Prima aspetto aure della spada Ma in realtà loro non mi possono mica attaccare Venite qua Aiuto Forza Dai No Se mi buttano giù dalla torre sono morto Ok ragazzi Secondo voi ce la faccio Aure della spada Pi Mangio un'altra me la doro E si va Li devo sciogliere Perché ci sono dei diamanti per terra Wow Che sta succedendo Morite 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 State parlando con un imperatore Oh mio dio Dai 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 Che casino E muori Oh È vero Loro droppano i cuori Oh mio dio Questi mi aumentano la vita No vabbè No vabbè No vabbè ragazzi Ci ho 20 cuori Sono immortale Sono diventato immortale Affrontiamo i prossimi mostri Ah qua non ci sono mostri C'è una cesta Con una chiave di ferro Una chiave semplice Che può aprire le porte Di un dungeon Ah Ok Che tipo di dungeon L'avete mai vista nella vita in città Io non credo di averla mai vista Ok siamo praticamente in cima Abbiamo scalato quasi tutta la torre Però nessuna traccia ancora Del drago C'è Ah c'è tipo Il portale qua su Con una pressure plate Ci fidiamo Facciamo così Io mi metto lo scudo Perché lo scudo C'ha immortalità Quindi se mi succede qualcosa In quel caso sono tranquillo 3 2 1 Vai Mi ha dato 4 cristalli Ho capito Mi ha dato i cristalli Per respawnare il drago Certo Certo Ok Sono pronto a sconfiggere il boss Del resto L'abbiamo già fatto una volta Riusciremo sicuramente a rifarlo E in più ci ho guadagnato Un botto di cuori Con lo scudo inserito Che c'ha vitalità 3 Se mangio Arrivo ad avere 23 cuori in totale Sono OP E non oso immaginare Con una mela d'oro Se mangio pure una mela d'oro 25 No 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 Il drago non ha speranze Il drago non ha speranze Ok piano piano Non morire Benissimo E andiamo a rievocarlo Allora Se non ricordo male Si fa così Uno qua Uno qua Uno qua E uno qua Oh Sta per rinascere Siete pronti ragazzi? No 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 Stupidi enderman potenziati Morite subito Via non mi date fastidio E dai Ok si stanno attivando Tutte quante le torrette Devo prendere l'arco Per distruggerle Tra 3 2 1 Rinasce il drago Va bene Dovrei essere in grado Di farcela da solo Aiuto Ah cavolo è vero C'è tutto quanto l'evento Ecco questo può essere un problema Ma tecnicamente adesso sono molto più forte di prima Ce la farò sicuramente Iniziamo distruggendo le torrette Bene Ma che cosa pensi di fare? Eccolo Distrutto Distruggiamo anche quella E tutte le torri sono andate Dai A noi due Preso Mamma quanto danno gli faccio No 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 Voglio aspettare che scenda Voglio utilizzare aura della spada Sta per scendere? Muori Forza drago Vabbè se vuoi ti attacco di nuovo con l'arco Però ti avviso ti faccio molto male Andrà di là Preso Mamma mia che danno Aiuto Ho un'idea Faccio come gli speedrunner Mi allontano e poi tiro l'ender Per l'appena sta scendendo Ricordiamo Scudo alla mano Sta per scendere Via Pronti? Aura della spada Vediamo quanto danno riesco a infliggergli Dov'è? Dov'è la tua testa? Oh mio dio Oh mio dio quanto gli tolgo E non sono neanche colpi Aiuto Dov'è il mio anellino? Ecco l'anellino 3 2 1 Usato Wow Ok non vi preoccupate Tutto ok Tutto sotto controllo Continuiamo ad attaccarlo E dai Ripeto tranquilli Ammazziamo qualche enderman Così mi prendo le enderpearl Oh Non ci provare Sbatti contro un treno eh Se provi ad attaccarmi in questo modo T'avviso Dai che non ho paura di te E due tuoi stupidi fulmini Pensi veramente Di incutermi timore? Oh sì Oh sì Sta per morire Ok Enderpearl E si va da sotto Aura della spada C'ho ancora tante frecce piccolino Sta per morire Si bugga purtroppo Quando si bugga non riesco a vederlo Eccolo Aiuto Nah c'ho le enderpearl Oh cavolo Non è andata l'enderpearl È andata in ritardissimo Ok là ho rischiato un po' la vita Mangiamo le mele d'oro Dai 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 Manca poco lo so Aura della spada Un paio di spadate ancora Ed è fatta Sì Sì E addio Battuto per la seconda volta Dall'imperatore supremo Questa volta da solo Se vi ricordate la prima volta Che abbiamo battuto il drago Eravamo tutti quanti insieme Abbiamo faticato tantissimo Ragazzi Spero che questo video vi sia piaciuto Oh no 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 Devo prima Ovviamente Accettare la missione Missione completata Livello avventuriero 93 Dal vostro Kendall è tutto E noi ci vediamo domani Con un prossimo video Ciao Ciao